ciao ragazze allora finalmente vi parlo di questa azienda fantastica di cui sono letteralmente innamorata e con la quale collaboro da un po e di cui sono partner e di questo sono felicissima allora vi avevo spiegato già che io ho iniziato a collaborare con altre aziende oltre ai brochet ma con questa azienda ho proprio deciso di fare proprio un vero e proprio lavoro perché è un'azienda fantastica molto molto seria e adesso vi dico di quale azienda parlo sto parlando di LR Health & Beauty Systems allora per chi non sapesse chi è LR Health & Beauty Systems è un'azienda tedesca famosissima a livello internazionale e conosciuta in tutto il mondo e tratta prevalentemente prodotti a base di aloe vera aloe vera non solo sotto forma di creme e gel ma aloe vera da bere io vi dico che questa azienda mi era stata proposta circa 2-3 anni fa prima ancora che iniziassi a fare il brochet ma non avevo proprio dato peso a questa azienda perché all'epoca io non pensavo minimamente di fare questo tipo di lavoro per cui l'avevo un po snobbata poi l'abbio conosciuto il brochet e l'ho presa come un hobby questa estate invece ho avuto purtroppo dei problemi dovuti alla mia intolleranza all'attoso che hanno fatto sì che il mio fisico fosse un po' debilitato sono stata molto male insomma avevo bisogno, avevo l'esigenza di prendere un prodotto che mi facesse stare bene ma dall'interno quindi che mi depurasse ma mi facesse proprio bene oltre che a depurarmi perché di depuranti, depurativi scusatemi ce ne sono veramente tantissimi in commercio ma io volevo un prodotto proprio che mi facesse stare bene così mi sono ricordata di questa email che un mio amico mi aveva spedito appunto 2-3 anni fa e che però avevo salvato sul pc per cui la sono andata a riguardare e mi si è aperto un mondo fantastico, un mondo nuovo prodotti di cui io non ero a conoscenza allora vi dico subito che è un'azienda talmente famosa a livello internazionale ed è veramente tra le aziende più serie che io conosca vi dico che ho letto e ho conosciuto molte molte aziende in questo periodo ho letto diversi piani marketing, diverse schede prodotto ho letto veramente tantissime informazioni su varie aziende ma quelle di LR mi hanno letteralmente affascinata e stupita proprio perché l'azienda è serissima, lavora in un certo modo e come vi stavo dicendo la sua serietà e la sua professionalità hanno fatto sì che delle star internazionali famosissime come Bruce Willis, Christina Aguilera, Michael Schumacher e tanti altri hanno deciso di affidarsi a loro per la creazione dei loro profumi personali ma non come fanno con altre aziende o alcune persone fanno cioè del tipo affidano a un marchio e dicono farmi un profumo e poi ci mettono la firma loro vanno insieme ai profumieri a studiare il profumo e a scegliere quelle che sono le essenze che devono essere utilizzate vi dico subito che LR fa prodotti profumi fa prodotti per la pelle, prodotti per il viso, prodotti per lo styling e i capelli tutta una linea delicata per la pelle dei bambini linee di make up e tutte le linee una linea indicata maggiormente per la dieta quindi insomma sapete questi programmi fatti apposta per aiutare a dimagrire le persone vabbè di santi, sane, depurative e dimagranti insomma una serie di prodotti ma il suo punto forte sta nei prodotti alla base appunto di aloe vera soprattutto l'aloe vera concentrata e l'aloe vera drink quindi quella da bere vi faccio vedere questo è il catalogo Elt quindi dove si trovano tutti i prodotti insomma da bere che sarebbero questi qui questi qui le bottiglie sono quattro gel differenti e poi tutte le tipologie di prodotti a base di aloe allora io vi dico subito che o l'avevo provato perché qui su youtube molte 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 ragazze si erano trovate benissimo con questo tipo di prodotto che l'equilibra l'aloe 98% di aloe vera e ne decantavano tantissimo i benefici e le proprietà io in realtà l'ho provato non mi ha mai fatto impazzire tanto io l'avevo provato per utilizzarlo soprattutto per i capelli e non mi aveva fatto impazzire così la prima cosa che ho fatto è provare un prodotto di LR prima su a parte prendere per il drink in gel che vi ho detto mi serviva proprio per depurarmi per aiutare il mio fisico a stare meglio ma anche per vedere che effetto facesse sui miei capelli e vi devo dire che io ho trovato una certa differenza che mi sono posta mi è venuto il dubbio perché io dovrei acquistare o iniziare a proporre LR rispetto ad altre aziende che comunque trattano aloe nei prodotti ma anche aloe da bere la risposta è molto semplice tutto sta nella lavorazione ma è tutto sull'anzianità della pianta sulla lavorazione sul tipo di conservazione di lavorazione, di taglio ma soprattutto sulla serietà dell'azienda che fa sì che ci siano dei marchi di qualità che tantissime, tante altre aziende non hanno ad esempio vi faccio vedere questo prodotto qui sì per carità è il 98% di aloe vera tutto quello che vogliamo ma io non vedo marchi di qualità sulla bottiglia se ce l'avete a casa dateci un'occhiata io invece mi sono studiata un po' tutti i marchi di qualità di cui si avvale la LR in particolare ve ne faccio vedere due per l'aloe poi ovviamente vi faccio dei video a parte purtroppo non si vede bene con vabbè ragazzi comunque sarebbe faccio così vediamo se si vede eccoli qua Fresenius è il certificato di aloe allora praticamente cosa significa a parte che la pianta di aloe deve essere certificata appunto per essere per dimostrare che la pianta di aloe è idonea e che quindi insomma viene lavorata in un certo modo e che non sia contaminata ma quello che rende i prodotti di LR assolutamente unici perché è l'unica azienda al mondo ad avere questo marchio è il marchio di qualità Fresenius che cos'è? chi è l'istituto Fresenius? è un istituto che si occupa del controllo appunto dei prodotti dall'inizio della diciamo della coltivazione della pianta di aloe fino al dopo essere messo al commercio il prodotto quindi va a vedere il tipo di pianta da quanti anni c'è questa pianta come viene tagliata come viene lavorata come viene conservata come viene proprio lavorata come si dice scatolata mi viene scatolata ma in realtà inserita nei packaging quindi come viene proposta come viene venduta solo se supera dei determinati standard insomma di qualità lei ha il marchio Fresenius ed è un marchio che viene costantemente controllato cioè l'istituto Fresenius continua a fare dei controlli sempre non è che dal marchio e poi si ferma cioè continua a fare sempre quindi per avere questo marchio deve essere proprio un prodotto eccellente ed è questo che caratterizza prevalentemente il prodotto di LR la serietà e tutti questi marchi di qualità che ha vi dico per esempio che i prodotti della LR sono inseriti per i profumi hanno il marchio Dermatest che praticamente attesta che il profumo e le creme sono di altissima qualità che non hanno reazioni allergiche che sono utilizzati per esempio i profumi con oli essenziali insomma devono seguire anche loro dei standard qualitativi ed è l'unica azienda che è stata inserita ovviamente avrete capito che è un'azienda di network marketing quindi è un MLL cioè lavora su multilevel marketing e dell'unica azienda di questo settore che è stata inserita è un'associazione che si chiama VKE Cosmetics che cos'è la VKE Cosmetics? è un'associazione di appunto qualità dei cosmetici quindi solamente le marche i prodotti e le aziende serie con certi standard qualitativi e con certe caratteristiche vengono inserite all'interno di questa associazione tenete presente che in questa associazione ci sono persone cioè ci sono aziende tipo Cartier Dior Chanel insomma per farvi capire un attimo la qualità del prodotto parliamo insomma del profumo di Bruce Willis per esempio per darvi un'idea è stato il profumo più venduto nel 2013 e concorreva con profumi tipo Armani Calvin Klein cioè profumi veramente eccellenti ci sono anche le creme di aloe concentrate l'aloe emergency che poi magari vi faccio vedere in qualche altro video le molteplici funzioni che possono avere questi prodotti io vi dico proprio questa sera mi è capitato mi sono scottata col vapore su questo dito mi sono bruciata col vapore immediatamente ho preso il mio aloe concentrato e lo ho passato sulla scottatura in realtà avrei dovuto metterci l'emergency come prima l'impatto ma sotto mano avevo l'aloe concentrato l'ho passato ragazzi e non ho nulla cioè non ho niente non mi brucia non mi fa male non ho niente cioè è veramente eccezionale la mia piccolina qualche tempo fa è caduta ovviamente e si è fatto un buon golone in testa io le passai questo qui vi parlo di tempo fa quando ancora non avevo l'er le passai questo ragazzi e non so se è stata una combinazione ma si confio tantissimo io adesso lo applico sulla mia bambina per esempio l'aloe questo qui concentrato o per qualsiasi cosa lei abbia e ragazzi sta benissimo non ho avuto assolutamente reazioni ma sono dei prodotti fantastici per cui ho scelto di lavorare con loro a parte che sono prodotti che io ho testato e utilizzato prima di diventare partner proprio perché volevo essere sicura della qualità dei prodotti e poi perché comunque oltre ad essere dei prodotti eccezionali offre un piano marketing che è veramente straordinario è unico nel suo genere e lo posso dire veramente con sicurezza insomma lo dico veramente convinta di quello che dico perché veramente è un piano marketing fantastico per cui io lo prendo veramente come un lavoro non come un hobby perché è un lavoro se a qualcuno di voi dovesse interessare a avere informazioni sul tipo di piano marketing o su tipi di prodotti DLR basta che me lo chiedete lo sapete io sono sempre a disposizione se vi capita che ne so di volerli provare anche potete contattarmi ma anche se magari già conoscete qualcuno che tratta i prodotti DLR provateli perché sono veramente fantastici vi dico che farò un video nel quale vi faccio un esperimento per farvi vedere i drink gel che effettuano nell'organismo ragazzi sono eccezionali non hanno controindicazioni pensate che i drink di aloe vera sono sulla base della ricetta di padre Romano Zago che come sapete ultimamente se ne parla tantissimo hanno fatto dei servizi anche le iene insomma veramente se ne parla tantissimo perché è veramente un toccasana per l'organismo la cosa bella dei prodotti dell'LR è che non solo sono sulla base della ricetta di padre Romano Zago ma sono anche arricchiti con degli ingredienti e vitamine che vanno ad aiutare il nostro corpo e vanno ad agire per contrastare alcune patologie che purtroppo molti di noi riscontrano per cui veramente sono dei prodotti assolutamente fantastici vi ripeto non hanno controindicazioni sono naturali sono fantastici l'unica controindicazione è che se si è un soggetto allergico all'aio o alla cipolla i prodotti di aloe in generale di qualunque marca non possono essere utilizzati perché appartengono dalla stessa famiglia per cui niente ragazzi io vi farò questi video perché mi va veramente di farvi conoscere a fondo questi prodotti perché li trovo assolutamente fantastici ci aiutano a stare bene i drink gel dall'interno mentre invece i prodotti di cosmetica ma anche i gel concentrati i prodotti per gli animali ci sono tutta la linea per i bambini insomma sono dei prodotti fantastici ci sono prodotti antidolorifici tipo per farvi capire il lasone però tutti naturali a base di aloe ci sono un prodotto che ricorda molto tipo il Vixinex veniva utilizzato sul petto di bambini quando avevano tosse ci sono però ovviamente naturali ci sono integratori alimentari che aiutano le difese immunitarie ragazzi ci sono prodotti quindi il colostro il cistus incanus ci sono dei prodotti che sono fantastici fantastici io veramente vi consiglio di approfondire se volete trovate degli articoli specifici sul mio blog di cui vi metto sempre il link sotto nell'info box e poi vi metto anche il link della mia pagina nuova che ho fatto per LR ovviamente ci sono sempre anche delle informazioni anche su Mondo Cosmetic che è sempre la mia pagina Facebook per cui niente ragazzi io ci tenevo a farvi conoscere il prodotto e a dirvi anche questa mia nuova esperienza con questa nuova azienda e niente vi ripeto se vi va di conoscere meglio i prodotti o comunque conoscere anche meglio se magari volete anche voi intraprendere un po' questa strada del network marketing fatemelo sapere o mi scrivete un commento o mi mandate un'email niente ragazzi io vi saluto vi aspetto nei prossimi video e vi mando un bacio grande ciao ciao